Giro questa domanda all'ospite che ha Maria Suave, in collegamento sempre da Montecitorio, che è Renato Brunetta, esponente di Forza Italia, così acquisiamo anche il punto di vista dell'opposizione. Sì, Francesco, a Renato Brunetta giriamo subito la prima domanda, che prima mi diceva che è una democrazia alla rovescia. Insomma, voi attaccate molto questo conte bis. Ma è molto semplice. Chi le elezioni il 4 di marzo del 2018 le ha vinte, vale a dire il centrodestra è unito, oggi si ritrova tutto all'opposizione. Chi allora le elezioni le ha perse, vale a dire il Movimento 5 Stelle, che le aveva perse col 32%, il centrodestra le aveva vinte col 37%, più il PD, più l'EU e il governo. È una democrazia alla rovescia. Certo, i governi si fanno in Parlamento, però, che si facciano pure in Parlamento, però rovesciando gli esiti elettorali. D'altra parte, però, era mostruoso il governo uscente. Voi avete duramente attaccato. Lega 5 Stelle, anche questo era mostruoso, ma almeno aveva una componente di vittoria alle elezioni, come mostruoso due volte, è questo, mostruoso al quadrato, perché oggi ci sono i perdenti alle ultime elezioni. I perdenti alle ultime elezioni sono al governo e i vincenti alle ultime elezioni sono tutti all'opposizione. Come diceva lei, però, ovviamente la maggioranza è parlamentare, nel senso che si cerca in Parlamento, ovviamente. Assolutamente sì, ma nessuno si può lagnare di questo perché i governi si fanno in Parlamento. L'unica cosa che il mio amico Matteo Salvini dovrebbe considerare è che si è fatto proprio un bel autogol, o un autogolpe, che è molto divertente da questo punto di vista. Brunetta, a questo proposito, Salvini questa mattina ha detto che il concetto di centrodestra in realtà è superato. Bisogna pensare a un partito degli italiani e un partito contrario agli italiani, come quello che ha detto Salvini è rappresentato appunto dai Cinque Stelle e il PD. Il concetto di centrodestra, secondo voi, è superato? Lui dice anche Forza Italia deve uscire dall'ambiguità. Ma veramente Salvini deve uscire dall'uomo solo al comando e dall'uomo che ha i pieni poteri. Il centrodestra vince solo se è plurale, se è liberale, se è democratico, se è europeo, se è repubblicano. Un centrodestra dell'uomo solo al comando, un centrodestra del listone unico, non solo non vince, perde, ma non è neanche democratico. Un centrodestra, o meglio, una destra, destra, estremista, populista, sovranista, lepenista, perde. Perde in Europa, come abbiamo visto, ma perde anche in Italia. Quindi dico io a Salvini, forse dovresti fare qualche riflessione in più, caro amico Matteo Salvini, sul centrodestra plurale, perché in tutte le regioni ha vinto il centrodestra plurale, non il centrodestra sovranista. C'è una domanda da studio, Francesco? Comanda...